Musica Applausi 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 Un montefelcino Tutto questo pubblico Con questa serata estiva calda e oggi veramente ci divertiamo in questa serata caldissima piena di vino riso di vino a monte felcino dico solo altre tre parole rosa della cecca signora per la prima volta qui a monte felcino la signora rosa della cecca la scuola la scuola la scuola si è messo ai lupi stavolta felcino ma che mette perchè dov'è signora? ecco so, mi sono fermata la lampretta giù a punto di alber come faccio? e vedo che è in ritardo signora ora si spiazza l'ambulanza ma chi è? si c'è la scuola affatto sanno 60 la scuola si chiama così il giorno stavolta ma chi? guarda c'è il biglietto bisogna fare il biglietto e se il biglietto a facciamo anche i piccoli per perdone ça va a vedere vero parola nel è la festa del vino, c'è con la cartina per arrivare la macchina a San Costanzo, scelta una valle, sale d'altra valle, è tutto un valle. Venga qua, venga qua, che la facciamo salire. Saluti il pubblico intanto. Buonasera il pubblico, sono contenta. Abbassate il microfono, venga signora, venga qua. Ci sente? Saluti, guardi che bel pubblico, guardi. Allora, avete cambiato la panuccia? Abbassate il microfono. Le tre è quella da panuccia, è in avanti, è maturi, ma chi è? Aspetta. La panuccia è cosa? E' perchè fa anche la badante, quindi se c'è da cambiare un panolino, l'avete fatto addosso, che mamma mia. Ma perchè non l'avete fatto addosso? E coso? Abbassate i microfoni. Vai. E dai la manga eh? Aspetta che ho il ginocchio e ho... Ohhhh! Ohhhh! Posso vedere niente? Missis Rosa della Cecchia, più forte! Sempre così? Sempre così? Ohhhh! Avete accettato le camionette? Bene! Si sta bene qui? E fa un scaldamento. Il Giuliano che ci ha pensato per lei signora, il nostro tecnico. Che saluto, come la regina Elisabetta ha detto, tu saluta sempre che fai sempre bene. Ciao a tutti. Adesso ha preso anche calore. E la regina Elisabetta che c'è? La regina Elisabetta, quella d'Inghilterra, quella saluta sempre sulla manga paletta. E' sempre colmo. Perchè è come invece le planciche sotto. Allora se fai la paletta, insomma non sbatti troppo. Ma chi? No ma chi? Se lì saluta qui, ma Carlo, ma il fiore, gli dà la planciche sotto. Ma chi le planciche? Le planciche, le coee, la roba, le beble che pendono da sotto. Eh! Passate, c'è una sedia per la signora Rosa? Dove va? Aspetta, ritrovo una sedia. Ma che hai tutta questa busta qua? Che fai? Sono venuta per il mercato del fedeltario, né, stasera? Che si è cercata lei? E c'è il mercatino del feudo, ma chi è? E il feudo che è? Andi il trozo, va su, che fanno sempre i ven, le robe, c'è loro vecchi da venda. C'è lei ha portato una roba da vendere qua? Eh sì? Cosa è? Ma vedi vicino alla stufa? Eh certo, si mette lì, si scalda, guarda. Ho presa. Madonna. Ma signore... Ho fatto una cosa per niente oltre. Ho capito, ma... Ma c'è una salita da rita per niente oltre. Ma che è? C'è la strada più corta per niente oltre. Quale strada ha fatto? Perché so che c'è una... Io ho fatto... Adesso mi ha preso il calore, scusate, ma... A una certa età ti fai il calore, ti prende il freddo, il calore, ti prende il freddo. E non capisci niente? Eh... Io perché la pannuccia la porto più da qualche anno. Perché non la porto più la pannuccia? E chi sa perché? Perché c'è più niente sotto, mi piscia più niente. E chi sa? Che domanda che fai? Non so, magari la vedevamo ancora... No, la metterci con quel giro in gita, è stato un primitivo, è là. A posto. Per tenersi calda lì, praticamente. Eh sì, la panza più che alto. Ecco, fischia sempre. Sono tanta bella che mi fischi. Dimmi tutto. Questo vestito dove l'ha trovato? E' bello? Non è male questo qua. E questo è bello, questo... Tu hai da sapere. Non l'ho comprato, non l'ho comprato. Eh, non l'ho comprato. Questa è lunga la storia di questo. Guarda quante belle. E che no, hai da sapere che aveva ridotto ma mamma. Ridotto cosa sarebbe? A novembre aveva ridotto ma mamma. Era trent'anni che era morta, no? Dopo trent'anni si riduce, no? E' morta. Allora aveva ridotto ma mamma. Eh. E' becca morta mi fa. Signora, questo è il butti via. Come butti via? Aspetta. Io dico. Non si spreca niente. Mi l'ha fatta via. Guarda, è sintetico pure. Non ha perso il pelo. Guarda, è bella. E mica l'ho lavata. Io ho dato una botta. C'è la mamma. Guarda, sia bella. Questa era di sua madre. Era da mamma. Eh, la taglia era quella. La stazza è quella. Era da mamma. Lì era un po' più bassa. Più o meno. C'è sing.